Appena 100 giorni per ristrutturare il Braglia di Modena, adesso ci sono 20.000 posti e curve ad un passo dal terreno di gioco. In un bello stadio all'inglese, il quarto uomo è extra lusso, niente meno che collina, ruolo discreto e defilato, promosso a pieni voti, ma che effetto fa vederlo a due passi? Fa un bel effetto perché avere accanto una personalità del genere fa sicuramente piacere. Con gente come Collina basta uno sguardo e ti intendi, ecco, non c'è problema. Modena troppo contratto, Alberto commette doppia sciocchezza in 5 minuti, Udinese in 10, in meno di mezz'ora, Spalletti non fa una piega, al re tra Iankulowski, migliori in campo, l'assetto dei bianconeri resta stabile, il Modena più spinge e più si ingarbuglia. Udinese a testa alta, dimenticando numeri sfavorevoli, un miracolo di ballotta su Iaquinta, poi il rigore che decide il match. Milanetto su Pizarro, il signor Morganti non ha bisogno neppure di dare un'occhiata al quarto uomo più famoso del mondo. Il talento cileno in scioltezza, Modena da rivedere, l'Udinese ha già dimenticato la falsa partenza. Era una buona occasione per fare i tre punti, abbiamo buttato via quattro punti in due partita, è un po' troppo pesto per buttare via dei punti per il Modena. Iankulowski secondo noi il migliore? È stato molto bravo perché lui è più bravo in fase offensiva, però l'ho chiamato a giocare sul lato opposto al quale è abituato, a fare tutta la fascia destra, a coprire anche, l'ha fatto benissimo, sono d'accordo con voi.